Stagione strana per l'olio di oliva pugliese, in particolare per quello prodotto nel nord balese e nell'abat. Secondo le stime elaborate da Unabrol e altri operatori del settore, la produzione 2014 sarà inferiore sia quantitativamente sia qualitativamente rispetto a quella dello scorso anno. Ma i prezzi stanno salendo alle stelle, andando addirittura oltre, in alcuni casi, a quelli stabiliti dal mercato merci, ossia tra i 5 e i 6 euro al litro. La Puglia dovrebbe perdere circa il 35% dei quantitativi 2013, ma a soffrire di più è l'area del Salento, dove gli alberi sono stati afflitti dalla xylella fastidiosa, oltre che dalla mosca o le aree dal maltempo. E' andata meglio invece nella zona nord di Bari. Il crorolo produttivo anche nel resto d'Italia, in particolare in Toscana, Umbria e Campania, ha fatto il resto. E così i prezzi stanno lievitando. E i produttori locali stanno compensando in questo modo la minore produzione. Certo, resta da fare i conti con i furti nelle campagne e con le sofisticazioni, oltre che con la scarsa commercializzazione con le etichette locali dell'olio pugliese. Ma questa è un'altra storia.